Ha già prenotato un volo per il decollo definitivo dell'aeroporto Salerno Costa da Malfi. Il presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, tradisce ottimismo e si dice ampiamente soddisfatto dopo l'ok arrivato ieri dalla Conferenza dei Servizi presso il Ministero delle Infrastrutture sul masterplan di medio e lungo termine che consentirà il fatidico ampliamento ed allargamento della pista dello scalo salernitano. Una fumata bianca propedeutica al definitivo rilancio dell'aeroporto, ieri l'altro aveva anche blindato 40 milioni di euro che rischiava di perdere per i ritardi sulla canterabilità e appaltabilità delle opere. Non solo, Cascone parla anche del matrimonio con Gesac che gestisce Capodichino ed auspica che le stime di 5 milioni di traffico di passeggeri vengano confermate e rispettate in un imminente futuro. Rispetto al Mazzeppan per noi era decisivo, la tempistica importante è che noi possiamo pubblicare la gara comunque entro il 31 dicembre di quest'anno, rispettando tutte le scadenze. Aspettiamo adesso solo il decreto ministeriale di approvazione del progetto per poter bandire la gara. A proposito di questo, segnali per un decollo definitivo di uno scalo di vitale importanza per il traffico e l'economia dell'intera provincia e non solo? Come Regione Campania sono due anni che lavoriamo magari sotto traccia a cercare di scomperare ogni problematica. In parallelo stiamo lavorando per avere la concessione globale che ci consentirà la fusione con l'aeroporto di Capodichino, che è uno degli obiettivi che abbiamo in campo. È chiaro che il risultato richieda sicuramente un via libera importante a tutte le procedure di esproprio ed ovviamente di concretizzazione per l'allungamento della pista. La concessione definitiva al volo è proprio la condiziosine qua nonna per il matrimonio con Gesac. Si potrà finalmente consumare questo matrimonio? Dal MEF e dal MINT ci dicono che loro hanno sgombrato ogni campo sulle richieste aggiuntive che noi abbiamo fornito, scusa le spiegazioni aggiuntive. Quindi confidiamo che anche questo entro la fine dell'anno possa arrivare. Quanto manca secondo lei per il decollo definitivo del Costa d'Amalfi? Ci riferiamo in termini di tempo proprio. Io credo che se si viene confermato il decreto entro quest'anno sui lavori della pista, noi per il 2019 i lavori si faranno e quindi per i primi mesi del 2020 potremo avere la pista completa. Stessa cosa, se la concessione globale arriverà, per il giugno ci sarà la fusione e quindi avremo un menagement e una gestione professionalmente molto alta per far crescere l'aeroporto. Ricordo che i piani di Gesac, quindi dei piani tecnici e non dei piani politici, prevedono nei prossimi 5-6 anni 5 milioni di passeggeri a Salerno, ovviamente dopo la lunga della pista. Quindi l'obiettivo è molto molto alto e se lo dice una società che gestisce benissimo Capodichino, per esempio i primi aeroporti in Europa, possiamo crederci e quindi dobbiamo puntare allo sviluppo di tutto il territorio circostante l'aeroporto. Ci sono state anche le parole forti del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ultimamente, quanto hanno influito secondo lei rivolti a chi governa? Ma hanno influito a tenere l'attenzione alta, questa è una cosa molto importante perché purtroppo i cambi politici molto spesso creano qualche difficoltà. Noi dal punto di vista amministrativo eravamo molto tranquilli perché praticamente abbiamo fatto tutto e quindi abbiamo fatto tutto, quindi siamo convinti che ormai non ci siano più molto tempo da aspettare, però se lo mandiamo avanti è buono che ci sia attenzione e attenzione su questo aspetto. Registriamo ottimismo, chiudiamo con una battuta, ha già prenotato il primo volo dal Costa d'Amalfi? Sicuramente sì.